Le iniziative di accesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono essere gestite in forma associata tra i tre comuni della Nuova Pescara e non possono prescindere da una loro formale condivisione presa d'atto per evitare sia di indebolire le proposte sia che si pongono tra loro in modo conflittuale e contraddittorio con l'intento di suggerire alle municipalità che ancora esitano su posizioni distinte e autonome strumenti di intervento più utili e mirati alla effettiva costruzione della nuova conurbazione al fine di garantire la maggiore informazione. Questa mattina Montesilvano si è tenuto a una tavola rotonda per fare il punto della situazione sulla nascita della città metropolitana. Sì gli ostacoli sono latenti magari non espressi ma comunque pesano. Pesano nel senso che il legislatore ha stabilito che alcune funzioni amministrative debbano essere esercitate in forma associata. Nonostante questo sia un preciso obbligo di legge ad oggi questo tipo di attività non è stata sviluppata. Il convegno di oggi, l'incontro di oggi è stato fondamentale perché ha reso evidente quanto siano elevati i danni che questa comunità sta subendo per via di questo ritardo. Si è parlato di PNRR che è uno strumento che punta alla modernizzazione, all'efficientamento, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e che ha come obiettivo l'innalzamento della qualità e dell'efficienza del sistema pubblico che governa gli enti locali. La fusione di Pescara Montesilvano e Spoltore rappresenta uno strumento formidabile ed è il più grande processo di modernizzazione dei comuni mai realizzati in Europa. Mai in Europa si è realizzata una fusione così grande. Quindi è evidente che il potere contrattuale negoziale che hanno questi tre comuni sul piano dell'accesso alle risorse del PNRR è un potere unico, straordinario, non lo stiamo utilizzando. Io lo dico da sempre, per me è un processo irreversibile con la legge regionale che c'è adesso. È chiaro che se questa legge regionale dovesse essere cambiata da qualcuno allora ragioneremo con un altro strumento, ma adesso il percorso è già tracciato, dobbiamo soltanto non perdere tempo. Il PNRR ci aiuterà in questi territori ad avere risorse importanti, il punto sul PNRR di evitare che le tre amministrazioni locali ragionino da un punto di vista progettuale separatamente, non tenendo conto delle necessità di un territorio che ormai è una conurbazione completa e non tenendo conto che nel frattempo il processo di fusione è già avviato e quindi bisognerebbe di già per legge ragionare insieme.